Musica Ben trovati in appuntamento con dentro del consiglio Il nostro settimanale che ci porta all'interno del consiglio regionale della Toscana Sono due temi che affronteremo in questo nostro incontro Il primo, importantissimo, non è sicuramente da sottovalutare perché si parla di metà legislatura Questo appunto è il titolo, è stato rieletto presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo E poi c'è stato anche il rinnovo di tutto l'ufficio di presidenza Festeggeremo anche Alessandro Dressadore, un ragazzo che ha portato alto il vessilo della Toscana I recenti mondiali di sci alpino per diversamente abili E quindi il primo tema che affrontiamo è stata la rielezione con 36 voti su 40 Del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo Rieletto quindi nell'undicesima legislatura La votazione sul presidente del consiglio regionale è stato però il primo atto delle operazioni di voto Per il rinnovo dell'ufficio di presidenza previsto dal regolamento interno proprio a metà della legislatura La proposta di riconfermare Mazzeo alla presidenza del consiglio regionale è stata avanzata in aula Da Vincenzo Ceccarelli e poi ha annunciato il voto favorevole anche a tutti gli altri gruppi politici Subito dopo l'insediamento di Mazzeo sono stati eletti due vicepresidenti Il voto ha riconfermato Stefano Scaramelli che ha ottenuto 21 voti e Marco Casucci che ne ha ottenuti 13 L'esito poi di questa votazione ha dato il via anche a cercare di capire e comprendere tramite votazioni Come si componeva l'ufficio di presidenza del consiglio regionale Quindi ci sono due consiglieri con funzione di questori per il cui ruolo l'aula ha votato Il consigliere Francesco Gazzetti e il consigliere Marco Stella Gazzetti ha ottenuto 19 voti, Stella 13 E poi nel segno della continuità con l'ufficio di presidenza oscente Anche l'elezione dei due consiglieri segretari dove l'aula ha votato Riconfermando la consigliera Federica Fratoni e poi il consigliere Diego Petrucci Fratoni ha ottenuto 23 voti, Diego Petrucci 14 Allora ascoltiamo tutti quanti i consiglieri che compungono l'ufficio di presidenza del consiglio regionale della Toscana Sento un forte carico di responsabilità Quando l'assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi Mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo Con serietà, con impegno, con rigore, con passione insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza Che ringrazio Noi davanti a noi abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili portati avanti da tutti con grande serietà Lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse Ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo Io mi sono preso un compito che è quello di cercare di portare nei prossimi due anni questa assemblea legislativa Essere sempre più la casa delle toscane e dei toscani Un luogo aperto in cui la maggioranza possa perseguire la sua giusta volontà di portare a casa le leggi Che ritiene più giuste per offrire servizi migliori ai cittadini e ai cittadini toscani E la minoranza abbia il suo spazio di critica e anche di opposizione dura, aspra quando serve Io sarò garante di questo, voglio essere come ho fatto fino ad oggi e spero di poter fare meglio Il presidente di tutte le toscane e di tutti i toscani Vi assicuro che oggi dopo questa votazione ero ancora più emozionato Perché quando ci si conosce poco si può dare fiducia, così anche a scatola vuota Dopo due anni e mezzo di lavoro il risultato di oggi apre anche un significato Quello di aver creato con tutte le forze politiche un rapporto vero, schietto, leale, sincero Perché poi alla fine l'obiettivo di tutti è offrire ai cittadini e ai cittadini della Toscana servizi migliori Non so se sempre siamo stati all'altezza ma so che continueremo a andare avanti in questa direzione Con spirito di responsabilità e di servizio Far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore Ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno Siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale Facendo gioco di squadra quando va fatto In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie Che sono state poi approvate dall'Aula Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio E al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo Affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza È una grande responsabilità ma anche una grande gioia Io sono onorato di far parte dell'ufficio di presidenza ormai dal dicembre del 2017 Sono diversi anni e ho cercato in questo periodo di fare l'interesse di tutti i toscani Cosa dovuta e al tempo stesso quanto mai gratificante Segnale importante che consolida una maggioranza solida a livello regionale Ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso Ringrazio il collega Sguanci Si consolida la maggioranza di centrosinistra nel governo della nostra regione Si consolida e si rafforza il governo Gianni Nel contempo è la mia figura di carattere istituzionale A garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani Quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula In tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio Con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato E nel contempo ovviamente conferma del mio ruolo in questo momento anche di guida politica di Italia Viva A livello regionale, nel Consiglio regionale A sostegno ovviamente di una maggioranza che si consolida con questo voto Che compatta quindi questa nostra coalizione Tanto un ringraziamento va all'ufficio di presidenza uscito e al nuovo ufficio di presidenza appena entrato Insieme al collega Gazzetti andiamo a ricoprire questo nuovo incarico che c'era già nella ottava legislatura Poi con la modifica del numero dei consiglieri fu tolto Abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza Non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico Ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza Corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro Corrispondeva insieme anche all'istituzione della figura del sottosegretario Ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza giunta e lavoro del Consiglio regionale Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari Pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani A quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti Ecco, noi pensiamo che nell'allargamento dell'ufficio di presidenza Non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia, delle forze politiche in quell'ufficio lì Ma c'è anche un modo diverso di lavorare Usciamo da due anni difficili che sono quelli della pandemia Ci portiamo dietro alcune cose positive e alcune cose negative Io sono convinto che con il collega Gazzetti che ha preseduto la Commissione Europa Porteremo per esempio più Europa all'interno dell'ufficio di presidenza Il che significa avere anche un rapporto e una rappresentanza diretta dentro il bilancio Abbiamo bisogno di lavorare sempre di più Per quanto mi riguarda, io provengo in questa legislatura dall'esperienza della Commissione Europa Il tema dell'Europa è un tema di sempre maggiore e crescente attenzione Ritengo dunque che questo sia sicuramente un campo nel quale potenziare il lavoro E poi c'è sicuramente una grande attenzione che deve essere dedicata ad esempio ai giovani Noi abbiamo una straordinaria esperienza come quella del Parlamento regionale Degli studenti, dei ragazzi e delle ragazze Credo che il legame vada ancora di più rinsaldato E poi c'è un impegno assolutamente significativo che credo debba essere Quello di poter valorizzare, impegnarci ancora di più Insieme al Presidente Mazzeo, ai Vicepresidenti, ai segretari E adesso anche insieme al collega Stella come nuovi soggetti, come nuovi questori Anche del protagonismo e del coinvolgimento delle colleghe e dei colleghi consiglieri Sicuramente con enorme soddisfazione e con un onore grandissimo Rappresentare il Consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo Lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile Perché non è quello il luogo della contesa politica Lagone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido Sicuramente in certi momenti radicale Ma questo deve essere fatto nelle commissioni Dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana Sicuramente nell'aula del Consiglio regionale l'Ufficio di Presidenza è un altro ambito Nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti E in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes Anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche E avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani Ho voluto sottolineare il fatto che in questo Ufficio di Presidenza Io sono l'unica rappresentante femminile E questo deve ovviamente impegnare ancora di più i lavori dell'Ufficio e del Consiglio Tutto A favore appunto di una parità di genere effettiva In stretta collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Perché credo che questo sia uno dei principi fondamentali sui quali ovviamente vogliamo lavorare Ma devo dire che il clima che si è riscontrato in questa importantissima seduta La seduta che a metà legislatura conferma i ruoli nel Consiglio regionale In fondo è anche una valutazione d'apprezzamento per il lavoro della Giunta E conferma come l'equilibrio che ci siamo venuti a creare fra Giunta e Consiglio Ha portato a far sì che sono state confermate quelle figure di riferimento Non solo il Presidente Mazzeo ma anche il Vice Presidente Scaramelli Che è espressione di una collegialità di lavoro nella maggioranza che vede unita da un lato la forza Diciamo così del Partito Democratico Dall'altra di Italia Viva, dall'altra ancora della sinistra E contemporaneamente un'armonia di lavoro nel reciproco rispetto dei ruoli Fra maggioranza e l'opposizione E questo dà una spinta importante anche al lavoro della Giunta E adesso festeggiamo un ragazzo che si contraddistingue per talento, tenacia e forza e determinazione Determinazione peraltro lo sentiremo anche per voler fare sempre meglio È Alessandro Dressadore, Giovanni Fistoiese, protagonista di uno dei recenti mondiali Di sci alpino per diversamente abili Che ha ricevuto una targa dal Consiglio regionale come esempio davvero per la Toscana tutta Dressadore, il portacolori dello sci club Doganaccia nel comune di Abitone Cotigliano Sulla montagna Pistoiese, il pass per i campionati mondiali di sci per atleti diversamente abili È arrivato grazie agli ottimi risultati ottenuti ai campionati italiani disputati lo scorso anno nel 2022 Proprio sulle piste della Doganaccia Sono davvero orgoglioso oggi di premiare Alessandro Dressadore Il premio ad Alessandro è un premio all'impegno, alla voglia di farcela Il riconoscimento per portare in alto, in Europa, nel mondo, il nome della Toscana Le due medaglie di bronzo conseguite quest'anno nei mondiali di sci alpino Danno il senso delle qualità di Alessandro Allora questo premio non è un punto di arrivo, vuole essere per lui un punto di partenza Speriamo di rivederlo qui a festeggiare risultati ancora migliori C'è un team tecnico molto preparato che ha preso in carico e ha gestito Alessandro in un ambiente familiare come la Doganaccia Che è riuscita a tirar fuori tutte le caratteristiche e le potenzialità di Alessandro Lo sport è stato il trampolino di lancio per inserirlo nella società Questo lo ha aiutato moltissimo perché lo sport necessariamente ha regole Lo sport fa apprezzare i compagni Riesce poi a rispettare gli avversari e soprattutto rispettare se stesso Quindi tutte le regole che riguardano l'alimentazione, tutte le regole che riguardano la preparazione Tutte le regole che sono necessarie per poter fare ad alti livelli Perché a questo punto bisogna riconoscerli che sono ad alti livelli tutta la sua attività Io sono della montagna e quindi mi è sempre piaciuto che Alessandro potesse fare uno sport invernale E che potesse apprezzare la montagna Abbiamo lavorato tanto sull'autonomia ma lo sport è stato quello che ha dato ad Alessandro Quella spinta in più per migliorarsi e essere socialmente preparato ai vari gruppi che avrebbe incontrato nelle vita È una forza della natura innanzitutto Mi emoziono sempre a dirlo Ha due genitori che gli danno la possibilità di fare tutto quello che gli piace fare Sulli sci è molto dotato, devo dire Io alleno dei normodotati e Alessandro Nella solita maniera, anzi lui tante volte mi è d'esempio per ragazzini molto bravi Per come la giornata affronta la lezione con noi e suggerimenti che gli diamo La forza di riuscire ad andare avanti E più allenamenti e più allenamenti e la prossima mondiale Speriamo che la vincino ancora e deve essere ancora più forte, deve essere più intenso e cercare di far meglio possibile Con gratitudine per aver portato la Toscana sulle rette del mondo Grazie Grazie Brava Ed è sempre emozionante vedere anche la prima azione di questo nostro atleta toscano Con questa immagine si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni C'è il sito www.inconsiglio.it Vi aspetto come sempre qua tra sette giorni Dentro il Consiglio Grazie a tutti